Siamo in compagnia del Presidente Alberto Vuozzi, buonasera Presidente, 1905-2023, 118 anni, una corsa lunghissima, tantissimi premi, tantissimi, veramente tantissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali, quanto pensa tutto questo? Oggi il nostro circolo è in grande rilancio soprattutto per lo sport e quindi siamo ben felici di avere 118 anni di storia, hanno scelto un presidente giovane come me proprio per rilanciare anche le attività più marittime e quindi speriamo di fare cose buone. Perfetto, e questo è il primo passaggio Presidente, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro da questo circolo che tra l'altro è un'istituzione qui a Napoli? Sport, 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 tantissimo sport, servizi per il sociale a Santa Lucia, abbiamo tanti piccoli progetti che coinvolgono la popolazione, la cittadinanza, il quartiere, venite al circolo. Allora, dopo il Presidente non poteva che esserci il Vice Presidente Cesare Biagini, lei è un'istituzione, Biagini in questo circolo, sono tantissimi anni che lo seguono, lo ha anche condotto da Presidente, cosa è cambiato in questo ultimo periodo? Ma adesso ci siamo veramente attrezzati per il futuro, per fare in modo che questo circolo riviva attraverso la gioventù, attraverso le attività sportive che noi ci aspettiamo di implementare continuamente e speriamo sempre in nuovi soci che possono venire e godere di questo panorama. Stiamo facendo una carrellata di tutte le cariche istituzionali all'interno di questo meraviglioso, di questa bellissima gioiello, gioiello location, ma gioiello di Napoli. Consigliera e consigliere, allora, 118 anni. 118 anni ben portati, anzi direi che migliora con il tempo, come il vino. Perfetto, 118 anni ben portati e noi siamo per lo sport, cerchiamo di far rivitalizzare la squadra di pallanuoto che sta andando benissimo. Girando un pochino per tutte le sale di questo splendido circolo che incontriamo, Massimo Carrino, Massimo Carrino non ha bisogno di presentazione, è straordinario. Massimo, anche tu consigliere, anche tu socio, 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 non me ne vogliono i soci. No, Pamore di, no, 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 altri pensieri in testa, no, 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 socio. Siamo qui in questo meraviglioso circolo, il circolo da Linantes, ennesimo anniversario, 118, 118 anni, portati molto bene. E ce l'hanno tentato tutti. Sì, sì, portati molto bene, un circolo storico, grande sport, grandissima tradizione e poi un parterre di soci eccezionali, siamo molto contenti. Un presidente giovanissimo. Un presidente giovanissimo Alberto Vuosi e stasera grandissime sorprese, ci sono tanti ospiti. e quindi, e dopo festeggiare l'anniversario del circolo con un parterre d'eccezione. Stasera, dici cosa succede, qualcosa, dai. Cosa succede? Allora, vi dico il menù. A base parano, non mancherà? No, sto scherzando. No, voglio dire, ci sarà sicuramente, io che presenterò la manifestazione insieme a Dettore Massa. Ci sarà un evento importantissimo in acqua, ve lo diciamo. E in acqua, in acqua sì, ci sarà alle 6 e un quarto, quindi non ve lo dico alle 6 e un quarto, perché nel senso che ve lo dico a fai 6 e 4. Ci sarà un evento in acqua, quindi un evento dedicato allo sport, dopodiché il concerto di Massimo Masiello, grandissimo ospite della serata. Però, attenzione, dopo la cena, perché chiaramente uno c'ha ma a buffa, se no, se non da buffa, che fai? No, dopo la cena ci sarà un'altra esibizione. Artisti di strada, tip-tap, sax, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta. Io ho sentito parlare un certo Ettore. Massa. Che conosco a memoria, voglio dire. Ci sapecchi. Benissimo ragazzi, sono tantissime le cose che faremo questa sera, stasera soprattutto è festa, è una festa speciale perché il Rale Nantes compie 118 anni. Grazie Massimo. No, grazie a voi, grazie a Sergio, eh, Sergione. Siamo in compagnia del Presidente dei Proviviri, Ugo Frasca, Ugo. Socio decano, no? Socio decano, ma che succede stasera qua, 118 anni? Non mi dire portati bene, ma l'hanno detto tutti. No, 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 portati bene. Allora facciamo un passo indietro velocemente. Questo è un posto, l'acqua di mare, più che acqua di mare, è acqua santa, acqua benedetta. Questa è bella. No, no, è perché la media dell'età dei soci del circolo è 100 anni. Io ho ancora, no, voglio dire che veramente sembra acqua di l'urdo perché ci mantiene tutti quanti in buone condizioni. Quindi io che ne ho 70 sono un ragazzino. No, sì, però potrei venire qua per prolungare. Io sono socio. No, devo venire pure a fare il bagnetto. Vengo, va benissimo. Allora ragazzi, noi vi salutiamo con questa meravigliosa chicca, con questo meraviglioso ospite che tra l'altro è anche un personaggio che poi dopo ve ne parlo. Buona serata a tutti, buona continuazione.